messaggio della madonna 15 giugno 2019 paccia il tuo cuore figlio mio mentre vedi i raggi del sole passare attraverso la finestra illuminando e riscaldando l'intero ambiente così l'opera di dio si sta diffondendo sempre di più illuminando e riscaldando le anime attraverso i miei santi messaggi distruggendo il regno oscuro di satana che non può fare nulla contro la luce divina che irade il cuore di tutti coloro che hanno accolto gli apelli del signore e desiderano fare la sua divina volontà continua ad offrire tutto nelle mani del signore anche il più piccolo atto che diventa grande benedizione grazie per la salvezza delle anime i piccoli atti offerte il signore con amore diventano grandi cose nelle sue mani non sprecare l'opportunità di offrire il signore tutto ciò che fai unendoti al suo cuore divino compiendo tutti i tuoi atti in lui e con lui il signore benedirà ogni atto compiuto irradiando su ciascuno di essi la sua luce divina che accecherà satana rendendo inutili i suoi tentativi malvagie sull'umanità peccatrice prega 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 molto perché dalla preghiera viene la vita per la tua anima e per tutte le anime dalla preghiera scorre la fonte delle grazie e delle benedizioni del cielo un'anima che prega tutto ottiene dal cuore di mio divino figlio quando la sua preghiera è fatta con fede e fiducia si è sempre piccolo davanti a me e al cuore di mio figlio e avrai sempre i nostri occhi misericordiosi su di te e sulla tua famiglia ti benedico affinché la tua anima sia piena di forza coraggio luce e grazia dal cielo nel nome del padre del figlio e del spirito santo amè grazie a tutti grazie a tutti